Siamo qui a Caivano con il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelligcia. Massimo, che cos'è questa roba qua? Questo è un insediamento di campo rom potenzialmente abusivo, dove si spersa di tutto, dove si raccoglie di tutto, dove c'è tanta immondizia e soprattutto dove c'è il rischio concreto, quotidiano, di roghi tossici. Ecco, allora, siamo qua a denunciare questo fatto perché il governatore De Luca sino all'altro giorno ha tentato di negare il concetto di terra dei fuochi e col negazionismo il problema non li risolvi. Adesso ha resosi al disastro che ha combinato, sentite cosa dice in questo video. E poi, come spiegheremo in dettaglio, per affrontare il problema della terra dei fuochi, lavorando concretamente per la bonifica e per la rinascita della terra dei fuochi. Tutti gli altri hanno parlato. Noi stiamo agendo, cioè stiamo lavorando per risolvere i problemi. Ecco, sta lavorando. Lui è quello che lavora. E allora, guardate cos'è accaduto proprio questa mattina a Giuliano in un altro insediamento rom con rifiuti. Questa è la situazione attualmente a Giuliano. Guardate. Guardate. Uno, due, tre. Autobotti dei vigili del fuoco. Sanno da stamattina qua. Beh, bastato o no, guardate ancora. Ecco qua. Vedete? Vedete qua i rifiuti che ci sono. Guardate qua. Guardate qua. Eh. Guardate qua. Questa è tutta cenere. È stato spento stamattina. Guardate qua. Ecco, caro governatore De Luca, la verità è che questo è uno dei luoghi simboli dove sono col sindaco Massimo Pelliccia, di quella filiera criminale che unisce insediamenti rom a rifiuti e genera la terra dei fuochi. L'ARPAC ha ormai certificato che c'è tre volte il livello massimo di viossina nell'aria a fiamme domate. E allora c'è un solo modo per risolvere il problema. Né il negazionismo, né raccontare che stai lavorando. Ma usare ogni tanto quel lanciafiamme, non con i ragazzi che si stanno laureando, ma con gli insediamenti rom abusivi e con quella filiera criminale che salda la camorra agli insediamenti rom per dare vita alla terra dei fuochi. Noi siamo qua a dirti chiusura di tutti i campi rom abusivi, siamo qua a dirti controlli immediati per chi smaltisce illegittimamente.